Presidente Soave, siamo in attesa della visita del Presidente della Repubblica a Mattarella, che cosa parlerete oggi? Gli facciamo fare una visita ringraziandolo per averci fatto questo onore. D'altro canto, quando siamo stati interpellati, la ragione è perché questa è sicuramente l'unica esperienza con questo carattere in Italia e forse anche in Europa, cioè di fondazioni che hanno avuto nel Novecento una dialettica anche vivace, che si riuniscono insieme e cercano di trovare un minimo comune denominatore sui valori che devono innervare la cultura del 2000.